Musica Allora adesso abbiamo due attivisti del movimento Zeitgeist abbiamo Vincenzo Barbato che è del chapter Napoli è attivista da un po' di tempo Allora, che cos'è il brainstorm? Il brainstorm che significa letteralmente dall'inglese tempesta di cervelli o tempesta di idee è una tecnica creativa, una tecnica produttrice di idee Cosa consiste essenzialmente? Nell'analizzare un problema si raccolgono delle persone tutti possono proporre una soluzione senza essere censurati dopodiché si passa alla critica e alla selezione delle soluzioni migliori e poi si passa alla soluzione migliore con la stesura di un programma Premesso che comunque è ammessa qualsiasi tipo di idee da quella più stampalata a quella più infantile a quella più pazzoide insomma tutte le idee sono concesse allora tutti mi diranno è un po' da pazzi fare questa cosa questo metodo di approccio non potrà mai non potrà mai avere un'ascesa non potrà mai avere un'applicazione seria in un mondo reale e invece no ha molte applicazioni nelle impostazioni aziendali qui ho raccolto una serie di punti ad esempio è utilizzata nella creazione artistica nello sviluppo di nuovi prodotti e nell'aggiornamento dei vecchi prodotti nell'ambito della pubblicità sviluppando idee per campagne pubblicitarie nella risoluzione di un problema come abbiamo appena detto nella gestione di processi trovando sistemi per migliorare affari e processi di produzione e la costruzione di un team generando condivisione e discussione di idee allora perché ve ne sto parlando così tanto? perché all'interno del movimento Zeitgeist noi abbiamo raccolto questa filosofia se vogliamo dire così e da nè è nato il GDL Nuovi Arrivati il GDL Nuovi Arrivati coordinato da Fausto Govoni è uno spazio aperto chi partecipa nel GDL Nuovi Arrivati? persone di tutta l'età provenienti da qualsiasi classe sociale e culturale ci incontriamo tramite TeamSpeak qual è lo scopo del GDL Nuovi Arrivati? è quello di innanzitutto aumentare il nostro bagaglio culturale e poi diffonderlo alle altre persone che sono collegate al di là del monitor da tutta Italia abbiamo avuto diverse esperienze molto carine il frutto del GDL Nuovi Arrivati si traduce essenzialmente in materiali didattici in iniziative open source soprattutto e nella costruzione di iniziative di comunicazione di massa quindi per adesso stiamo solo nel virtuale quindi è un gruppo nato da poco ma ha molte potenzialità oggi abbiamo parlato tanto di open source l'open source è nato inizialmente nell'ambito dei software in che cosa consiste? ed è poi sfociato in una filosofia quasi di vita in cui non si metteva più in primo piano un leader qui sono una serie di programmi open source che hanno sostituito in parte quasi tutti quelli dei sistemi operativi a pagamento e chiusi e limitati l'open source purtroppo è una tematica di cui nei media mainstream non si parla quasi mai soprattutto le istituzioni politiche in generale le istituzioni amministrative non ne parlano o perché non lo sanno oppure perché la vedono come una cosa da pazzoi mentre sta dilagando sempre di più attraverso l'open source noi abbiamo i diversi strumenti per insegnare la nostra società partendo abbandonando la vecchia credenza che un leader possa prendere le redini in mano di una società e guidarci ne abbiamo parlato tanto durante tutto il simposio e soprattutto senza badare a forme ideologiche quindi partire da noi stessi e ritrovare la nostra identità soprattutto e i nostri interessi per collaborare con le persone allora molte persone penseranno ah l'open source è nato dal software quindi sarà difficile da avviare come devo fare? è una roba da smanettoni? no essenzialmente l'open source significa anche farsi un dentifrice in casa farsi un detersivo per le lavastoviglie oppure un sapone con cui lavarsi è facilissimo reperire tante ricette su youtube aggiornarle magari dire ci vuole un pizzico di sale qui un pizzico di aceto qui e si migliora e questo è il concetto di open source non è solo in questi progetti difficili ora io come attivista insieme al GDL Nuove Arrivati e soprattutto alle persone splendide con cui ho avuto a che fare fino ad oggi abbiamo riscontrato quelli che io chiamo gli strumenti di una RP o di un'economia basata sulle risorse ho fatto una lista se ne è parlato tanto di cui anche Federico ha parlato e ha raccontato di storie mentre io parlerò di esempi e vorrei che assimilaste almeno il 50% di queste iniziative e farle vostre passiamo a Wikipedia chi è che non l'ha mai usata? Wikipedia è una enciclovedia open source multilingue aggiornata continuamente e che praticamente sta battendo le sue rivali Microsoft & Card o l'enciclovedia britannica che sono chiuse e a pagamento e viene utilizzata sempre di più in ambito accademico per semplici ricerche oppure addirittura nella preparazione degli esami io ho i miei risultati accademici benché lenti li devo anche grazie a Wikipedia Firefox chi è che non ha mai navigato su questo web browser? è un browser multipiattaforma cioè può essere utilizzato su qualunque sistema operativo è continuamente aggiornato open source è libero e chiunque può modificarlo e può migliorarlo ed è il secondo browser più utilizzato al mondo il nostro computer senza un sistema operativo non è altro che un soprammobile i sistemi operativi più conosciuti oggi sono Windows della Microsoft e Mac OS X dell'Apple entrambi chiusi entrambi a pagamento chiusi vuol dire che nessuno può entrarci dentro e modificarlo e migliorarlo ma sono predisposti solo dagli enti predisposti ma nel 2004 nasce un'alternativa Ubuntu Ubuntu fa parte della famiglia dei sistemi operativi di Linux è gratuito è open source è veloce è stabile viene utilizzato sempre più spesso ha un ambiente grafico molto carino e praticamente sta distruggendo quasi tutti i sistemi operativi tutti i sistemi operativi a pagamento che ho menzionato prima ho voluto mettere l'esempio del Portogallo il Portogallo lo sappiamo tutti è in preda a una grave crisi finanziaria e l'open source lo sta aiutando il Portogallo in merito al settore dell'informatica il Portogallo ha deciso di abbandonare i sistemi operativi a pagamento utilizzando solo ed esclusivamente dei software open source poiché non poteva più ben mettersi di pagare le licenze a pagamento di Microsoft, Apple e i programmi che ne derivano Technology Entertainment Design è l'acronimo di TED l'opera del TED si può riassumere nella formula idea world screening ovvero idee che valgono la pena di essere diffuse nel sito del TED c'è ovviamente la sezione tradotta in italiano e le lezioni di questa fantastica piattaforma abbracciano quasi tutti i tipi di tematiche come scienza, tecnologia, musica, temi globali, arte, società ecc io consiglio vivamente di seguire le lezioni del TED praticamente parecchi discorsi di me sono improntati su queste bellissime lezioni di fantastici personaggi che non solo sono scienziati, artisti, musicisti insomma persone che hanno dato un contributo all'umanità la Khan Academy l'abbiamo nominata prima è un'associazione non profit ideata nel 2006 da Salman Khan che come ha spiegato Federico sta rivoluzionando il mondo delle istruzioni in cui c'è una mappa stellare in cui praticamente ci sono quasi tutte le materie conosciute come si è spiegato prima e attraverso questa mappa è possibile esercitarsi e avanzare di livello con delle video lezioni prese da Youtube che sono tradotte quasi tutte in italiano e avanzare inoltre la Khan Academy può essere utilizzata e si sta utilizzando soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove grazie a progetti come Raspberry il PC da 25 dollari può essere utilizzato attraverso sempre Ubuntu per aumentare il livello culturale nei paesi ad esempio l'Africa per fare istruzione a basso costo oppure utilizzando dei tablet indiani da 35 dollari in cui il governo indiani si sta distribuendo appunto per far avanzare il livello culturale degli indiani si dovete pagare non li voglio gli applausi ok Open Source Ecology se ne è parlato prima è questo bellissimo esperimento di questo ragazzo che attraverso una comunità ovvero organizzandosi insieme ad altre persone ha deciso di creare dei device ovvero dei mezzi agricoli, paleoliche, 3D printer a basso costo e soprattutto questo è un esempio pratico di come la collaborazione partendo da modelli 3D alla costruzione materiale può far evolvere noi stessi infatti sono stati predisposti dei progetti e se ne sono completati nel 2011 circa 8 ed è in continua evoluzione vuoi viaggiare in tutto il mondo essendo ospitato da una comunità di 23 milioni di utenti sparsi per tutto il mondo per essere ospitato in una stanza o sul divano Couchsurfing è la piattaforma che fa per Teddy infatti basta iscriversi anche il nostro coordinatore ha partecipato e ha viaggiato ha viaggiato per essere ospitato ed è una piattaforma che funziona benissimo ha un sistema di recensioni che è come quella degli hotel in cui gli utenti stessi giudicano gli utenti se magari puzzano se sono antipatici se magari hanno un divano che magari è scomodo no, ci sono tutte queste informazioni ci sono anche le foto dei divani delle stanze in generale è una recensione negativa fa in modo che nessuno verrà qua anche se tu vuoi nessuno di oggi infatti ho messo tipo una brandina schifosa perché volevo partecipare però ho detto non voglio ospitare nessuno sto scherzando il carpooling il carpooling è un modo di viaggiare essenzialmente come funziona una persona mette a disposizione sulla piattaforma un'auto i posti disponibili e ci si organizza durante la tratta per accompagnare durante un viaggio una persona quali vantaggi ha? si riducono le emissioni di CO2 si riduce la quantità di denaro speso per la benzina si fanno nuove amicizie e perché no? si può anche instaurare un legame affettivo amoroso sono nate delle storie d'amore da queste bizzetture questo anche ha un sistema di recensione infatti gli utenti stessi giudicano se magari i gusti musicali del deputatore non erano adattati se erano antipatici certo ci vuole una sorta di recensione altrimenti è tutto in mano al caos il progetto RepRap immaginiamo tutti noi stampiamo tutti i giorni su dei fogli come questo documenti per studiare eccetera eccetera e ora la 3D printer invece stampa degli oggetti realmente partendo da dei modelli 3D oppure che si possono scaricare liberamente dalla rete per stampare oggetti di uso comune ora dove sta la genialità di questa cosa? il progetto RepRap essenzialmente mette a disposizione tutte le istruzioni per costruirsi una 3D printer per poter essere aggiornata a livello software e anche a livello strutturale e per poi rimetterla nella rete sono nate diverse comunità sparse in tutto il mondo in cui si spiega come costruirla ti da a disposizione il software di modellazione 3D su come configurarla e si passa per la fase di costruzione essenzialmente è una grande opera questa ed è un grande esempio di open source alla modica cifra lì ovviamente al costo di stampa ovviamente tutte queste la stampa di RepRap costa circa 1000 euro 1200 euro e se te la monti tu ti costa anche meno perché ti vendono solamente i pezzi e la maggior parte di pezzi possono essere ristampati dalla RepRap quindi è una stampante autoreplicante fino al 60% della stampa della stampa di RepRap il progetto è di renderla in pochi anni il 100% autoreplicante compresa la scheda madre i circuiti interni quindi cosa vuol dire? vuol dire che uno si compra la RepRap versione adesso è la versione 1 la versione 5 che ci compreremo basta che uno la compra e stampa migliaia le regala in giro e abbiamo detto ciao ciao a tutta l'industria del commercio della speculazione finanziaria il tipo di modello si chiamava Dark il secondo modello si chiama Mender ovviamente aspettiamo degli upgrade ok Kickstarter finanzia la tua creatività sei uno scrittore artista musicista in generale un artista in generale e magari hai un progetto ma non hai i soldi per finanziarlo Kickstarter è una delle piattaforme che ti può aiutare infatti tramite un video divulgativo si può spiegare un'opera l'opera metterla in rete e aspettare che le persone magari ovviamente se è gradita si la finanziano praticamente per poterla vedere realizzata iFixit ripari i tuoi oggetti gratis non serve vuoi riparare un oggetto partendo da delle semplici guide iFixit ti dà la possibilità infatti se vuoi riparare uno smartphone un laptop un qualsiasi device elettronico si va nella sezione laptop dopo c'è la sezione smartphone si va nel modello si sceglie il modello e una serie di guide fotografiche con le istruzioni gli strumenti da utilizzare ti daranno la possibilità di disassemblare totalmente il tuo oggetto elettronico e potertelo riparare la free economy sharing di competenze ed è anche la comunità di Just for the Lobbit che verrà affrontata successivamente questa è una comunità dove si scambiano lavori senza introiti monetari ovvero si scambiano lavori solo per il piacere di farlo come dice lo stesso sito allora mi sono posto una domanda se immaginiamo di avere una massa critica di persone che hanno ben inteso queste iniziative le migliorano o addirittura ne producono altre ancora più efficienti come influenzerebbero il mercato e il sistema economico mondiale io dalla mia esperienza ho dedotto che minerebbero la cosiddetta economia di oggi se anche il significato dell'economia è stato distorto in questi ultimi secoli su pre-economia ecco la gestione della casa è tutto sprecato distruggerebbe il pil ovvero farebbe calare il pil il prodotto interno lordo diminuirebbe il consumo ciclico perché darebbe la possibilità alle persone di replicarsi degli oggetti con 3D printer farsi il detersivo e altre cose comunque messe nell'ottica di una grande massa farebbero un risultato davvero pessimo per questo sistema economico il potere d'acquisto calerebbe le attività commerciali e terziarie immaginiamo ad esempio negli hotel con il sistema di coach surfing quando l'ho detto a mio padre che ogni imprenditore del settore è alberghiero mi ha detto no non dirlo a nessuno altrimenti porca puttana se no finiamo finiamo sull'astrico qui purtroppo sono in realtà che stanno avanzando ad esempio iFixit potrebbe minare l'industria del settore delle riparazioni dei device elettronici e poi iniziative come la Canacadine potrebbero minare l'istruzione scolastica e il sistema educativo che oggi vige allora ho detto una cosa lo diceva Bob Kennedy negli anni 60 il PIL non è assolutamente apprestabile al benessere sono come l'acqua e l'olio sono un ossimoro quando si alza uno diminuisce l'altro e viceversa quindi attraverso questa serie di iniziative ho voluto divulgare degli esempi e spero vivamente che voi una volta uscite da questa sala poteste fare vostra queste iniziative perché elevano il nostro potenziale la nostra identità ci fanno riscoprire la nostra identità e ci avvicinano soprattutto alle persone che hanno i medesimi interessi se vogliamo cambiare questa società dobbiamo studiare dobbiamo studiare e dobbiamo partecipare a queste iniziative questi sono degli strumenti ovviamente altri movimenti hanno portato le loro storie sono tutti validi perché alla fine confuiranno in un unico binario ovvero su quello dell'ecosostenibilità cerchiamo di portare avanti queste iniziative almeno nell'open source in cui dal virtuale poi passiamo alla realtà per essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo grazie grazie